La Presidente mi ha affidato l'ultimo intervento prima delle conclusioni di Ernesto, credo che gli interventi conclusivi debbano partire dalle tante suggestioni che sono state date per fornire anche alcune indicazioni operative su temi, e concludo con quanto diceva Sua Eccellenza, che sono urgenti e quindi vanno affrontati subito, perché poi in attesa di ricevere indicazioni, linee guida, documenti, abbiamo alcune questioni che devono essere affrontate anche in modo urgente nel rientrare nei vostri istituti. Quindi io vorrei dividere questo intervento in due parti. Nella prima cercare di riassumere quale oggi in Italia e in Europa il quadro giuridico in materia di abusi sui minori, perché siamo di fronte a un settore che è caratterizzato da una fortissima evoluzione normativa e le leggi che abbiamo oggi sono completamente diverse da quelle che c'erano fino a qualche anno fa, e uno dei motivi del crescente contenzioso civile penale che abbiamo nei nostri istituti rispetto al tema degli abusi dei minori è legato non solo alle indagini mediatiche, non solo a problemi che ci sono stati ricordati, ma alla circostanza che le norme intorno a voi sono cambiate e quello che fino a qualche anno fa era lecito, oggi in alcuni casi è diventato reato. Per cui c'è una scelta che non possiamo che applaudire nel rafforzare in tutta Europa, ma anche nel mondo, la protezione dei minori. Però ricordo sempre che come un sistema di vasi comunicanti, quando si decide di aumentare la protezione dei minori, vuol dire che si aumentano i rischi per gli istituti, perché aumentare la protezione dei minori vuol dire creare nuove fattispecie incriminatrici di cui in ultima analisi rispondete voi. Quindi se decidiamo che è giusto, e a livello ecclesiale mi pare un richiamo molto forte, che la società si dedichi a crescere queste tutele, dobbiamo essere consapevoli dei rischi che questo comporta. Leggevo venendo qui un articolo per cui è stato calcolato che il rischio economico per le diocesi statunitensi, per gli scandali in materia di pedofilia, su cui ci sono indagini in corso, ammonterà probabilmente a 4 miliardi di dollari, che vuol dire forse arrivare al default, al fallimento di alcune istituzioni. Ricordo, per inciso, che voi quando gestite le opere, le gestite spesso anche con il patrimonio immobiliare dei vostri istituti, quindi anche solo a fronte di un caso di abuso, al di là delle responsabilità penali, corriamo un rischio di risarcimento economico, che per chi ha in campo la proprietà immobiliare è un rischio fortissimo. Quindi ci dobbiamo preparare a una fase storica in cui questo diventa forse il rischio principale, non solo in termini di immagine che è pure un bene prezioso, ma anche dal punto di vista della responsabilità legale e della tutela del patrimonio. Ricordo anche le indicazioni della CEI sulla sostenibilità economica delle opere e uno dei punti su cui credo sia bene uscire con le idee chiare da questi incontri è anche che a fronte dei rischi economici degli abusi sui minori deve corrispondere anche a un adeguato investimento in termini di energia. Quindi dopo aver illustrato il quadro normativo vorrei lasciarvi con alcune indicazioni operative sui punti che è bene trattare all'interno delle nostre case, anche in attesa che poi la conferenza episcopale ci dia indicazioni e modelli per riuscire a gestire e a contenere questo rischio. Intanto mi pongo, pongo anche a Sua Eccellenza a tutti, una domanda. Cioè parliamo di abusi sessuali o di abusi a 360 gradi? Questo è uno dei punti che abbiamo affrontato nel congresso OIEC di New York perché se io guardo al contenzioso che abbiamo soprattutto nelle scuole cattoliche in Italia gli abusi sessuali sono forse il fattore certamente più grave in termini di immagine di ricadute sui minori ma quello statisticamente meno frequente mentre abbiamo un enorme contenzioso su altre forme di abusi. Quindi comincerei col dire che oggi poiché non esiste un'unica legge in materia di abusi sui minori non c'è un testo unico come sulla sicurezza e sulla privacy se dovessimo riassumere in pochi minuti tutte le norme che oggi esistono nella legge italiana in materia di abusi dobbiamo distinguere quattro diverse forme di abusi che a mio avviso ebbene siano per voi chiare perché corrispondono rischi diversi, procedure diverse e anche attenzioni diverse che dovete avere nelle vostre opere per cui esiste intanto la prima categoria ma che è solo una delle quattro che è quella degli abusi sessuali che nell'attuale legislazione che è stata totalmente stravolta negli ultimi vent'anni non c'è più solo l'atto sessuale violento ma ci sono tutte quelle condotte che sono contrarie alla libertà affettiva delle persone per cui se io guardo anche i casi dei religiosi incriminati per reati sessuali contro minori nelle nostre opere che pure a sua volta è un dato marginale rispetto al totale delle denunce chi è accusato di abusi sessuali violenti cioè del tradizionale stupro è una minoranza perché oggi nel quadro normativo attuale anche un contatto fisico non violento addirittura detto la Cassazione in zone non erogene del corpo può essere considerato un atto sessuale quindi intanto consideriamo che l'area della violenza sessuale si è molto allargata perché la legge che un tempo puniva solo la violenza carnale oggi punisce tutti gli atti contrarie al principio della libera autodeterminazione sessuale affettiva del minore poi c'è tutta l'area nel mondo reati sessuali di ciò che veniva detto prima cioè di reati commessi attraverso internet il legislatore europeo e quello italiano ha deciso di criminalizzare la pedopornografia quasi al pari di un atto materiale quindi tutto il controllo sulla navigazione internet del nostro personale diventa importante e un reato di cui forse si è parlato poco ma che è uno strumento pericolosissimo per le nostre opere introdotto nel 2012 è il reato di adescamento di minorenni meglio noto come grooming che è un reato in cui si punisce una qualunque condotta anche priva di per sé di un contenuto sessuale se ad avviso del magistrato aveva come finalità quella di commettere poi un reato sessuale senza che il reato sessuale poi sia stato commesso tanto per citare un po' di casi concreti se no facciamo discorsi teorici adesso abbiamo avuto una nostra insegnante in una scuola denunciata tratta in arresto per il reato di adescamento di minorenni perché all'insaputa dei genitori della ragazza a 15 anni e all'insaputa del gestore della scuola usciva al pomeriggio invitava ad uscire il pomeriggio invitava a casa propria una ragazza una propria alunna del liceo e i genitori hanno denunciato l'insegnante per questo reato sostenendo e il magistrato ha creduto a questa tesi che la finalità di un atto che di per sé non era orientato fino a che il momento a commettere un reato sessuale fosse quello di creare una situazione di confidenza o di intimità in cui il giudice ha presunto che dal fatto stesso di non aver avvisato i genitori o la scuola ci fosse un intento criminale quindi quando parliamo di reati sessuali oggi non parliamo più in Europa e in Italia dello stupro ma parliamo di quello ma anche di tanti altri rischi che è bene governare quando le assistenti nelle nostre scuole cambiano i bambini ecco devono avere a che fare con l'intimità dei bambini abbiamo previsto delle procedure chiare abbiamo previsto dove è possibile che magari ci siano due operatori in modo tale che se il bambino anche magari in maniera fantasiosa dice la signora o la maestra mi ha toccato nelle parti intime ci sia qualcuno in grado di testimoniare che ciò non è vero quindi non è scontato cosa vuol dire reati sessuali perché è una legislazione che cambia poi c'è tutta l'area degli abusi non sessuali abusi fisici purtroppo noi abbiamo ancora tante cause basta vedere i telegiornali in cui si mettono le telecamere nei vostri asili di educatori che picchiano i bambini abbiamo casi di religiosi abbiamo avuto quest'anno diversi casi di suore accusate di abusi per aver strattonato i bambini una di due giorni fa per dare scappellotti pizzicotti tutto ciò che una volta era considerato un mezzo educativo normale e che oggi spesso è considerato un reato grave che con le telecamere messe dentro le scuole sarà un'indicazione banale ma dico sempre religiosi considerate che nelle vostre scuole è molto probabile che ci siano delle intercettazioni ambientali e quindi formate il personale che con le tecnologie attuali e con i metodi investigativi attuali spesso c'è qualcuno che guarda quello che viene all'interno delle nostre opere sembra importante sottolineare questi punti perché spesso si pensa solo all'abuso sessuale e non è questo tutto il problema poi c'è un'altra area vastissima e devo dire forse quella su cui si sta intervenendo di più che sono gli abusi che il minore subisce nel suo contesto extrascolastico o personale familiare di cui le nostre opere si devono fare carico perché essendo voi incaricati di pubblico servizio avete il dovere di denunciare i possibili reati di cui siete a conoscenza nelle linee guida della CEI scritto in maniera molto chiara che il responsabile di una scuola cattolica è un pubblico ufficiale e appena la commissione di un reato deve denunciare gli abusi che il minore subisce nel contesto familiare perché come diceva Sua Eccellenza il luogo in cui si consumano più reati è la famiglia molto spesso voi siete a conoscenza di fatti di natura familiare che non sempre siamo educati o preparati a gestire con un rapporto con le forze dell'ordine e quello mi sembra un punto molto importante inoltre quarta e ultima categoria degli abusi sui minori sono quelli degli abusi commessi da minori nei confronti di altri minori e cioè tutto il tema su cui la FIDE è intervenuta in maniera importante con quella norma internazionale a cui Ernesto faceva riferimento che vanno sotto la sigla di bullismo e cyberbullismo di cui noi rispondiamo direttamente per colpa invigilando tema che oggi nelle scuole italiane è avvertito come un tema molto forte forse rispetto all'abuso sessuale bisogna anche diffondere una cultura diversa che non porti a sottovalutare certi fenomeni cito un dato statistico che mi ha colpito di una scuola abbiamo organizzato due incontri aperti ai genitori nel primo incontro il tema era le procedure della scuola per proteggere gli alunni dal rischio di abusi sessuali dentro la scuola e su qualche centinaio di famiglie indovinate in quanti sono venuti in tre un mese dopo i genitori abbiamo organizzato con la stessa platea un evento sulla protezione del bullismo nella nostra scuola e i tre sono diventati oltre 300 quindi questo vuol dire che anche nella percezione delle famiglie alcuni rischi magari a torto però sono percepiti come rischi più urgenti su cui avvertono di più la necessità di tutelare i minori per cui ecco sembrava opportuno in pochi minuti risumere cosa oggi nella legislazione si intende per abusi sui minori e se dobbiamo costruire un sistema preventivo lo chiedo ecco a chi poi in Italia a questa responsabilità è anche importante decidere su quali punti concentrarci nel modello albanese che abbiamo fatto partire da un anno gestito direttamente dalla conferenza episcopale albanese che ha nominato un proprio referente all'interno di ciascuna scuola chiaro un contesto territoriale più piccolo in cui questa operazione è possibile il modello creato riguarda la protezione dei minori rispetto a tutti i rischi di abusi e quindi rispetto non solo agli abusi sessuali ma anche tutte le altre forme di abuso che abbiamo indicato linee operative che direi prescindono in parte da tutta l'evoluzione che anche a livello ecclesiale sta maturando e che sono dei suggerimenti operativi che anche rispetto al rischio legale credo possano essere recibiti subito perché da questi incontri è importante dare anche alcune indicazioni su come costruire all'interno delle proprie case un sistema ecco la direi di fronte a questo rischio degli abusi avete tre linee su cui scegliere qual è la politica a livello di congregazione di singolo istituto il primo è affidarsi alla coscienza alla preparazione professionale di singoli operatori o una scuola cattolica o un preside o un collegio docenti sapranno loro come devono gestire questo rischio il secondo la seconda linea è quella di introdurre delle singole misure diciamo così spot quindi organizzo un corso di formazione per gli insegnanti sugli abusi o sulla linea guida della CEI la terza misura che è quella che credo anche come fida e pure per il progetto che poi dirò in conclusione ci sentiamo di suggerire ricevendo le indicazioni della conferenza episcopale è quello di costruire invece un sistema coordinato di interventi che metta insieme una serie di misure per elevare il livello della tutela dei minori all'interno delle opere poi lo possiamo chiamare policy perché oggi tutto ciò che chiamiamo in inglese va di moda lo possiamo chiamare modello organizzativo quello che vogliamo però credo che la linea da suggerire sia quella non di affrontare questo problema con singoli interventi ma di prendere degli elementi come quelli che la conferenza episcopale ci sta dando ma fermarsi anche un attimo a livello progettuale e definire anche in coerenza col carisma di ciascuna congregazione come costruire un proprio sistema di protezione dei minori e siccome da qualcosa anche di sintetico bisogna partire a volte documenti molto lunghi abbiamo anche bisogno di tempo per leggerli volevo concludere entro l'orario rigoroso delle 17 che la presidenza mi indicava sette parole chiave che credo siano sette parole su cui potete iniziare a costruire il vostro il vostro sistema ecco la prima anche in continuità con quello che diceva sua eccellenza formazione mi stupisce molto nei corsi per esempio renderci conto ogni volta che per esempio le norme penali anche le più semplici in materia di protezione dei minori sono spesso del tutto ignorate dal personale scolastico mi diverto in tanti corsi alla prima lezione a dare un testo sulla conoscenza delle norme del codice penale italiano per esempio sulla pedofilia sui reati sessuali in materia di minori normalmente il livello di conoscenza oscilla tra il 5 e il 10 per cento del nostro personale che è un dato che colpisce perché se uno fa l'insegnante si dà per scontato che almeno le norme in materia di diritto dei minori siano conosciute e invece spesso non è così abbiamo tanti corsi vedo qui il dottor Maffeo che organizza molti corsi per gli istituti a volte ci sottoponiamo a corsi di centinaia di ore su materie molto tecniche e magari corsi di formazione su questi argomenti sono ancora pochi e penso quanto è bello 200 ore di formazione sulla privacy che dico neanche in Banca d'Italia fanno tante ore di formazione poi magari la pedofilia non sappiamo neanche che cos'è quindi anche un invito nel creare internamente ma anche attraverso i percorsi finanziati che per fortuna abbiamo una formazione solida e multidisciplinare perché certo l'aspetto giuridico è uno dei tanti però credo che ci sia nel personale apicale in quello non apicale questo ce lo possiamo dire sostanzialmente una conoscenza debole del quadro giuridico in questa materia seconda parola chiave è reclutamento quando spesso anche nelle cause ci troviamo ad assistere l'istituto per abusi di cui è accusato un religioso o un laico a volte confesso che la domanda magari solo guardando la persona imputata del reato questo chi l'ho assunto mi è venuta qualche volta anche spontanea magari l'ho tenuta per me però il problema del reclutamento c'è non solo per i dipendenti sappiamo bene che spesso le categorie di persone che più facilmente commettono questi abusi non sono i dipendenti i volontari il personale in appalto per esempio io ho anche un criterio legato al calendario nel mese di settembre normalmente arrivano tutte le segnalazioni di possibili sospetti abusi commessi nei centri estivi spesso noi anche con la contrazione dei religiosi ospitiamo nelle nostre case personale che non abbiamo scelto noi spesso non sappiamo chi è cito un caso di un ente di formazione professionale in cui mi è capitato qualche giorno fa la segnalazione che un nostro minore nell'ambito dell'attività di tirocinio è stato abusato in modo grave da parte di un adulto presente nella struttura in cui noi mandiamo i ragazzi a fare l'alternanza scuola-lavoro andiamo a fare la denuncia alla polizia ci dice guarda che la persona che stai denunciando era già stata condannata in primo grado in secondo grado per violenza sessuale sui minori e il tribunale gli stava facendo scontare domiciliari sul luogo di lavoro e ci chiede e voi avete fatto dei controlli vi siete informati prima di che personale dato che spesso abbiamo cooperative tanti soggetti esterni che non abbiamo selezionato noi quindi a volte ecco reclutiamo anche persone senza preoccuparci di sapere addirittura se hanno ricevuto delle sentenze di condanna per pedofilia magari gli affidiamo i nostri minori terza parola chiave regolamenti tante volte ci chiama il gestore ci dice posso licenziare dipendente per questo comportamento e la domanda è hai previsto qualcosa sul regolamento dell'istituto ecco poi anche qui possiamo chiamarli codici di condotta codice etico ma sul piano giuridico è necessario regolamentare i comportamenti che vi attendete dal personale perché per poter agire anche in via sanzionatoria se non c'è un regolamento interno che prevede delle condotte è difficile se non impossibile inoltre i codici di condotta servono anche per orientare i comportamenti servono anche come strumento di conoscenza dei genitori dei vostri alunni per sapere quali comportamenti possono pretendere dal personale quindi credo che sia molto importante con alcune congregazioni guarda alcuni che stanno qui comunque abbiamo adesso concluso dei corsi all'interno dei quali sono stati creati dei codici di condotta su questo punto prescrittivi non affidati a clausole generali e non facendo copia e colla con codice penale quando ho visto qualche regolamento di scuole antipedofilia è vietato abusare dei minori quello ce lo dice il codice penale per esempio hai vietato all'insegnante o religioso di chiedere l'amicizia o dare l'amicizia su facebook o di contattare col cellulare privato il minore non perché quello sia di per sé reato ma perché è un comportamento che pur lecito penalmente può favorire la commissione di un reato ecco la terza parola chiave a cui corrisponde la quarta che è sanzioni perché il gestore ha un compito disciplinare che è quello di infliggere sanzioni al personale che non rispetta le norme di condotta sanzioni di un certo tipo per i dipendenti canoniche per i religiosi qui è chiaro che sono questioni delicate che avrebbero bisogno di più tempo ma insomma volevo dare proprio qualche flash ma sugli aspetti credo più delicati quando anche Sua Eccellenza presentava il suo intervento ovviamente mi ponevo il problema che credo sia capitato anche a voi che diamo per scontato che scatti un certo meccanismo quando abbiamo accertato l'abuso ma come avvocati sappiamo che il più delle volte non siamo assolutamente certi che l'abuso sia stato commesso quindi io ho il genitore il ragazzo che mi racconta un fatto ho il dipendente o religioso che nega di aver commesso il fatto come intervengo questo è ciò che accade il più delle volte anche perché purtroppo l'abusatore spesso è molto preparato e bravo nel non farsi cogliere in fragrante ecco qui ricordo che esiste un meccanismo importante che è il procedimento caudelare che mi pare la base di una polisi per la protezione dei minori c'è una maestra accusata di picchiare i bambini intanto che si accerta il fatto che c'è un processo civile o penale la mettiamo lo stesso in classe con i bambini oppure per esempio la sospendiamo dall'incarico retribuendola in attesa che si concluda il processo l'accertamento o magari la mettiamo in compresenza perché questo anche dobbiamo dircelo ci sarà qualche economa qui presente la protezione dei minori ha dei costi e ricordo quando un gestore che mi ha chiamato raccontandomi un fatto di una maestra accusata di dare schiaffi a bambini dice ma io non ho le prove dice la posso licenziare assolutamente no se no il giudice te la reintegra dice allora che faccio e ho illustrato al gestore tutte le possibilità quindi la lascia a casa retribuendola le dai un'altra in carico e metti qualcun altro in classe e il gestore mi ha risposto dice caro avvocato secondo lei io posso spendere 2000 euro al mese in più solo perché questa forza ha dato gli schiaffi ai bambini il problema dei costi ce lo dobbiamo porre perché purtroppo abbiamo anche delle norme che tutelano i lavoratori e prima di agire disciplinamente dobbiamo contemplare le norme ultime tre parole chiavi mi rilascio a quello che dice credo che sia importante individuare questa figura interna di un responsabile per la protezione dei minori per il bullismo già la legge 71 prevede il referente anti bullismo che è una figura che si dedica all'ascolto dei minori che in qualche modo ha anche un compito di controllo rispetto all'operato dei superiori cioè credo che in questa strada della professionalità nella tutela del minore anche se mi rendo conto che implica un'organizzazione che va creata forse usando una legge che già esiste che è quella del bullismo costruire dentro ai nostri istituti una figura di riferimento per le famiglie che sia professionale e che sia anche dedicata con un po' di tempo a disposizione a questo compito è importante ad esempio in Albania in tutte le scuole abbiamo costruito questo profilo di un responsabile per la protezione dei minori formato dalla conferenza episcopale ed è una figura che sta operando in maniera efficace ultimi due punti va certamente costruito un sistema per le segnalazioni che consenta di effettuare segnalazioni anche in forma anonima o riservata perché spesso sappiamo che la paura di ritorzioni è quello che impedisce di effettuare segnalazioni sia da parte delle vittime o dei familiari sia da parte di altri componenti delle comunità di lavoro io quando ho poco tempo cito alcune statistiche casa famiglia di un istituto religioso in cui abbiamo avuto per dieci anni un ufficio qualità che riceveva riceveva segnalazioni ma non in forma confidenziale o anonima in dieci anni abbiamo avuto zero segnalazioni quando uscita la legge sul whistleblowing c'è una legge di tipo europeo che consente ai lavoratori segnalazioni anonime in un anno abbiamo avuto tredici segnalazioni di maltrattamenti su minori che hanno portato a due licenziamenti e a un rinvio giudizio per un'operatrice della struttura a volte questi strumenti riescono anche a modificare un po' quella cultura e quel clima che esiste all'interno di un istituto mi rendo conto se un lavoratore è a conoscenza o sospetto di un abuso commesso da un religioso che magari rappresenta la famiglia del proprio datore di lavoro prima di segnalare il fatto rischiando il posto di lavoro magari può avere delle preoccupazioni ultimo punto anche questo veniva accennato ma va affidato delle procedure chiare la collaborazione con le forze dell'ordine anche qui cito una conversazione telefonica di qualche giorno fa mi chiamo un gestore e mi dice mi ha riferito un papà che l'insegnante di educazione motoria avrebbe portato un bambino peraltro non suo figlio ma un compagnetto del figlio in palestra e si sarebbe denudato avrebbe mostrato le parti intime al bambino dice il gestore quindi penso di convocare questo insegnante raccontargli il fatto e sentire cosa dice a sua discolpa ha detto no madre lei deve correre immediatamente alla polizia perché quando c'è di mezzo il reato l'ultima cosa da fare è avvisare la persona che è accusata di quel fatto la suora e dice le faccio sapere va alla polizia mi chiama dopo e mi dice ma sai che il commissario non solo ha detto che ho fatto bene a presentare la segnalazione ma mi ha detto madre se lei non avesse presentato questa segnalazione si sarebbe trovata incriminata lei per intralcio alla giustizia mi rendo conto noi abbiamo alcune scuole più difficili in cui andiamo frequentemente al posto di polizia ricordo una volta quando è andato un avvocato con la sua a presentare la segnalazione avendoci visto per la terza volta nella settimana il simpatico commissario che stava ha detto madre vuole che le facciamo un ufficio solo per lei però quando uno gestisce magari 7-800 minori soprattutto in scuole in realtà più difficili il fatto di avere per esempio adesso a Milano una scuola con forte concentrazione di bambini cinesi che spesso a casa vengono picchiati abbiamo concertato con la polizia che l'insegnante segnerà un tema dal titolo racconta cosa avviene in casa e ti fa soffrire proprio allo scopo di precostituire perché abbiamo detto noi sappiamo dai bambini che ci sono gravi maltrattamenti non ci stanno le prove per agire e addirittura è un caso in cui la collaborazione porta a concertare con la polizia le tracce degli elaborati per raccogliere una prova insomma questo rapporto istituzionalizzato con le forze dell'ordine e i servizi sociali quando è di loro competenza credo che sia importante ecco tutto questo così concludo in un flash con il progetto che sta anche nel titolo del mio intervento dopo il congresso di New York avendo appreso gli organizzatori che la FIDA era stato il soggetto promotore della norma mondiale sul bullismo ci è stato affidato il compito insieme a Bisega e l'ufficio internazionale per l'educazione cattolica che sta in oltre 100 paesi del mondo con progetti sulla protezione dei minori il compito di scrivere un modello una linea guida internazionale che ovviamente sarà aperta poi a tutte le linee guida nazionali delle conferenze episcopali per costruire a livello ecclesiale un sistema di riferimento trasversale alle varie legislazioni mi pare un po' il punto d'arrivo del percorso sul bullismo che è stato un percorso nato dalla FIDE questi sono i compiti per casa che voi siete abituati a dare ai vostri alunni ma nei convegni arrivano a voi grazie grazie grazie